Sono 33 nuovi casi in provincia, secondo l'aggiornamento dell'ASPA Nissena del 15 settembre relativo alle 24 ore precedenti. I 33 pazienti positivi al SARS-CoV-2 sarebbero tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza 10 pazienti di Gela, 8 di Caltanissetta, 5 di San Cataldo, 3 di Mussomeli, 3 di Sera di Falco, 2 di Sommatino, 1 di Mazzarino e 1 di Niscemi. In degenza ordinaria si registra un solo ricovero di un paziente di San Cataldo e due di Missioni, un paziente di Caltanissetta e uno di Sutera. Guariti dal Covid-19, 18 pazienti di Caltanissetta, 11 di Gela, 4 di Niscemi, 3 di Mussomeli, 3 di Mazzarino, 2 di Riesi, 2 di Sera di Falco, 1 di Delia e 1 di Vallelunga-Pratameno. In tutta Italia invece sono 17.978 nuovi casi e di questi in Sicilia 959, stando all'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, dato che si evince dal bollettino quotidiano sui casi Covid-19 scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute.